Me tieni? Padua Nagare, Santa Antoni Palli. Church, Sant'Antonio. Itali, Padua. Grazie. I am so hungry andograf婚 have the lái. If you are humble, visit the десятmas vujas. Really cute. Let's look at my house with some electricity here. A pittà a vè a orundu tùnà hattarek ingh, me fettete. Paduana grecchiani, lokusiti e kak. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info